Grazie a tutti. Frittelle di pesce spada. Pela la carota e grattuggiala insieme con la zucchina. Taglia il pesce spada a bastoncini. Metti la farina in una ciotola con il latte, il sale e l'olio. Aggiungi l'acqua frizzante e mescola con una frusta fino ad ottenere un composto denso. Fa cadere nella pastella il pesce e le verdurine, mescola con cura e prepara delle piccole frittelle. Immergile in olio ben caldo e fale dorare uniformemente. Scola le succarte assorbente e servile subito. Un aperitivo per tutte le occasioni da bere con delle bollicine, caldo caldo appena fritto. Ve lo consiglio perché è davvero saporito. Un bacio a tutti. Seguite la ricetta e mettetevi ai fornelli. Grazie. 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 Grazie.